ora vento ce n'è puoi andare vai vai un decollo un po al limite ha fatto il pelo agli alberi ma insomma ai cespugli e devi correre un po di più la prossima volta ricevuto marco in volo marco e toni in volo va bene ora seguili tutte e due se mai gli dai due dritte per arrivare in atterraggio segui marco e dagli due dritte per l'atterraggio un tetraggio e io in